Alis è connessione. Conoscere ogni mese noi partner. Un'occasione di crescita importantissima. Una visibilità enorme. L'associazione ci ha anche ispirato. Qui abbiamo trovato davvero casa nostra. Ogni volta alza sempre l'asticella. Davvero incredibili. È riuscita da dove non ne sono mai riuscito prima. È capace di far sintesi tra persone che prima non si parlavano neanche. È un punto di riferimento per noi tutti. Il Presidente fino adesso ha comunicato valori. Noi lo supportiamo. La rappresentatività di Alis è oramai affermata. A tutti i tavoli c'è stato sempre un rappresentante del governo. Il fenomeno dell'associazionismo di impresa in Italia. Mai darsi limiti di fare ancora meglio. Bravi tutti, ora però ci rimbocchiamo le maniche e si ricomincia. Il cielo come confine, la terra come base di saggezza. Auguri guida. Un titolo per definire questa giornata. Direi straordinaria.